Eccoci tornati all'angolo dei libri per crescere, oggi l'appuntamento con il secondo volume di un libro di cui abbiamo già parlato, come promesso, tra poco. Abbiamo già parlato di un libro che si chiama Le 5 ferite della Lisborbo e in questo libro noi abbiamo avuto modo di vedere quelle che possono essere le ferite primordiali che possono interessare un essere umano. Se non hai ancora visto il video ti suggerisco di andarla a vedere e il link è direttamente nella descrizione di questo video qui, quindi lo trovi subito sotto. Noi oggi quindi cosa andiamo a vedere invece? Il volume successivo, cioè diciamo, a mio avviso, è un manuale più pratico rispetto al volume 1 per andare a risolvere queste ferite esistenziali. Questo è il libro di oggi. Le 5 ferite volume 2. Wow! Allora, di che cosa parla? Cioè, che cosa aggiunge rispetto all'altro libro? Una cosa veramente molto importante, proprio anche in termini di pagine occupate all'interno del libro, è tutta una risamina, a parte la parte iniziale del libro dove c'è proprio un ripasso delle 5 ferite per dire, ok, un previously on le 5 ferite. Ok? Subito dopo, la Lisborboa dedica una parte veramente molto grande e molto interessante all'ego, che lei definisce il più grande ostacolo alla guarigione delle ferite. Allora noi abbiamo visto che l'ego è quella parte inconscia, è quella parte spontanea che scatta tutte le volte che magari noi possiamo trovarci in una situazione di sofferenza. Può essere una situazione, un evento, una persona, qualunque stimolo che porti il nostro sistema nervoso a recepire, oddio, potrei soffrire. L'ego sta alla base di quella che è la costruzione delle maschere, che sono praticamente l'evoluzione delle ferite. sento una ferita, non voglio soffrire, maturo una maschera che in teoria mi aiuta a non soffrire più e quindi di conseguenza dopo sono felice, tranquilla e serena. Ok, la Lisborboa entra a pie pari in questo meccanismo e dice no, non è vero. Allora, soffri? Bene. Allora, subito dopo che tu soffri e quando il tuo cervello ti dice ok, per non soffrire più matura questa maschera qui, questa è una cosa finta, è una cosa che non ti fa stare meglio. È una soluzione che non è una soluzione e lei lo chiama appunto l'ego. Quando ti rendi conto che il tuo ego ha preso il sopravvento capisci immediatamente che stai indossando una maschera associata ad una delle ferite. Per cui, in sol toni, che cos'è l'ego? È la voce della nostra sofferenza, è la voce delle nostre maschere. Ok? Di conseguenza, la Lisborboa, in questo libro, va a spiegare nei minimi dettagli come si è formato l'ego, che cos'è l'ego. L'ego, quindi, che cos'è, che è caratterizzato dall'insieme di tutte quelle che possono essere le tue credenze. Quindi io credo che non sono bravo a fare questa cosa, poi magari in realtà lo sono, ma sono talmente convinta, credo talmente tanto questa cosa, che quindi non ci provo neanche a farla. Oppure magari c'è stata una volta in passato in cui ci ho provato e non ci sono riuscite e quindi da lì è maturata la mia credenza che non sono in grado di fare questa cosa. Poi dice anche che l'ego è quella cosa che ci toglie potere, perché l'ego ha un bisogno incessante, come dice qui nel libro, di convincersi che esiste e che è talmente importante da poter esistere per sempre, proprio come l'anima umana. Quindi la sua richiesta diventa talmente forte che noi non sentiamo più qual è la nostra vera richiesta, la nostra vera esigenza, il vero bisogno che è nascosto dietro a quella che potrebbe essere una sofferenza. È veramente molto interessante come approccio. Quindi lei fa tutta questa riesamina e analizza anche quelle che sono le dinamiche di potere che l'ego esercita su di noi, sembra quasi un soggetto esterno a noi, volendo potremmo anche considerarlo in questo modo. Quindi dice che cosa utilizza l'ego, come le critiche, oppure utilizza le espressioni assolute, tipo al lavoro sei sempre occupato, sei sempre in ritardo, sei sempre maleducato, tutte queste cose qui io immagino che ti sia capitato, vi sia capitato tante volte, insomma, di sentirlo. Dice un po' quelle che sono tutte le dinamiche di potere che utilizza l'ego. È chiaro che quando io conosco queste dinamiche qui, posso anche capire come far opporre una resistenza a queste dinamiche. L'importante è, no? Come dice l'arte della guerra, conosci il tuo nemico e amalo come se fossi te stesso, forse. Ma comunque l'ego ricerca i complimenti, l'ego non sa ascoltare, eccetera, eccetera. Quindi, vedete, io scorro veramente una grande parte del libro, qui ancora sta parlando dell'ego, ancora parla dell'ego. Poi arriva a un'analisi evoluta delle cinque ferite. Descrive in maniera ancora più approfondita quali sono le maschere collegate alle cinque ferite e come noi possiamo riscontrarle in una qualsiasi situazione di sofferenza. Diciamo che nel libro precedente, la Lisborbo ha descritto le cinque ferite separatamente. Ha descritto come si sviluppa il corpo, ha descritto in relazione alle varie ferite, ha descritto quelle che possono essere le abitudini alimentari, le abitudini di vita, le abitudini relazionali collegate alle cinque ferite. In questo libro qui, invece, lei introduce una visione più generale, più totale, una visione più completa delle cinque ferite e quindi vede anche dei collegamenti fra queste cinque ferite e vede anche quello che potrebbe essere l'evoluzione di una ferita in un'altra. Per esempio la ferita del rifiuto che si evolve in quella della ingiustizia o perlomeno una faccia della stessa medaglia è nella ferita del rifiuto e subito l'altra è nella ferita dell'ingiustizia. Per esempio, in che modo? Nella ferita del rifiuto la persona che soffre questa ferita in qualche modo attacca se stessa, mentre nell'ingiustizia attacca l'esterno. E quindi fa tutti questi incastri, osserva, approfondisce e chiaramente io più approfondisco, più conosco, più ho la possibilità di riconoscerlo anche quando mi capita, quando metto in atto, quando metto in pratica una ferita, quindi una maschera. Poi nella parte finale di questo libro, e questa è l'altra parte veramente interessante collegata al secondo volume delle cinque ferite dell'Alice Bourbeau, è come sapere quale ferita si è attivata in noi e come fare a risolverla. È proprio più un manuale pratico di cosa fare quando succede questa cosa qua. Per questo diventa veramente interessante poterlo sfogliare, forse non soltanto una volta ma anche tante volte e poi ripetere ancora, risfogliarlo ancora e rileggerlo e rileggerlo ancora per arrivare a comprendere bene qual è il processo di guarigione dalle cinque ferite o perlomeno di guarigione da alcuni aspetti di determinate ferite eccetera eccetera. Quindi prima tappa, riconoscere l'ego, riconoscere che in quel momento lì sta parlando l'ego al posto di te, di quello che sei, del tuo bisogno. Come seconda tappa, lei dice di scoprire le emozioni turbolente che provi, quali sono queste emozioni. Fa anche una lista veramente molto piena di tutte quelle che possono essere le emozioni, confuso, contrariato, distaccato, distante, debole, arrabbiato, esasperato, esposto, estenuato, fragile eccetera eccetera, ignorato, incastrato, incolpato, incompreso. Che emozione stai provando? Che sensazione stai provando? Subito dopo nella terza tappa, giudizio, accuse, reazione. Che cosa ti anima in base al tipo di reazione che hai, che tipo di ferita stai mettendo in campo e stai mettendo in atto per poi arrivare alla parte finale che è proprio l'accettazione, la guarigione della ferita che sta parlando. La guarigione, come al solito, è l'ultimo capitolo. In questi libri di solito la soluzione sta sempre in fondo e ci sono anche qui tutta una serie di tappe che possiamo seguire per poter arrivare al benessere, alla guarigione, all'accettazione delle nostre ferite, all'accettazione della nostra storia, all'accettazione delle nostre sfide. Sì, questo, all'accettazione della nostra vita, no? Forse non è un caso che abbiamo sofferto quella cosa o che siamo qui a raccontarci queste cose. Come sempre, insomma, a un certo punto arrivo a dire sempre questa cosa. Mi rendo conto. Per cui, suggerisco tantissimo la lettura di questo libro, Le cinque ferite, volume secondo, di Lisborbo. Per oggi è tutto. Ti consiglio, se vuoi, se ti è piaciuto il video, di mettere like a questo video, di iscriverti al canale e di spuntare la casellina della campanella, così riceverai aggiornamenti in relazione ai prossimi video che pubblicherò. Per oggi è tutto. Ti ringrazio. Ti ricordo che a un certo punto qualcosa cambia. Ciao.